Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Ben trovati, mi chiamo Luisa Roccia, sono Presidente della Fondazione del Collegio Geometri di Torino e Provincia. Cosa è la fondazione? La fondazione è quell'ente che eroga corsi per la formazione professionale obbligatoria che tutti i liberi professionisti geometri hanno l'obbligo di eseguire ogni anno, e nello specifico, nel nostro caso, in un triennio e la fondazione mette a disposizione i propri locali, i propri docenti per poter fare e organizzare dei corsi necessari proprio al raggiungimento di questa formazione obbligatoria. In particolare possiamo parlare di corsi obbligatori per poter eseguire determinati e svolgere determinate attività, sempre da parte del geometra, che sono per esempio quelle dell'amministratore di condominio. La fondazione organizza annualmente quei corsi di aggiornamento che danno la possibilità al geometra amministratore di condominio di poter svolgere la propria attività, pena diversamente la revoca del proprio mandato. Non facciamo solo il corso di aggiornamento di amministratore di condominio annuale, ma facciamo anche quello base, cioè chi vuole approcciarsi all'attività dell'amministratore di condominio, la fondazione Geometry ogni anno mette in piedi un corso per poter permettere ai giovani iscritti o comunque alle persone che si ritengono idonei a svolgere quel tipo di attività a poterlo fare. Un altro corso che annualmente la fondazione fa è quello l'aggiornamento sulla sicurezza sui cantieri. In base al decreto 8108, chi è iscritto ad un albo e fa sicurezza deve essere annualmente aggiornato, quinquennalmente obbligato a fare questi corsi e se chi non ha ancora frequentato il corso base per poterlo fare, anche qua la fondazione Geometry mette a disposizione dei corsi che permettono di accingersi a questa tipologia di attività soprattutto nei cantieri. Cantieri, ma non vuol dire solo cantieri edili, ma imparare a fare il responsabile dei lavori, a essere responsabili come datori di lavoro e quindi avere diverse sfaccettature nell'ambito sempre appunto della sicurezza. Abbiamo poi corsi in merito ai vigili del fuoco, quindi sull'818, in accordo con i vigili del fuoco che fanno di solito da docente ai nostri corsi aggiorniamo anche qua quelle che sono queste abilitazioni. Diversamente, allora, ho citato tre professioni particolari, l'amministratore di condominio, il direttore dei lavori sulla sicurezza e vigili del fuoco. Vi posso dire che sono tre ambiti in cui sempre più spesso c'è necessità di avere delle specializzazioni e di avere degli esperti. La Fondazione Geometri sta puntando veramente sulla qualità dei discenti che usciranno da questi corsi, ovviamente tramite tutti gli esami abilitanti e per essere abilitanti devo aver frequentato e superato il test, in modo che la professione che appunto risulta da questi corsi sia assolutamente e qualitativamente altissima. Anche per le responsabilità che ci spettano svolgendo questa attività. La Fondazione ha sede a Torino in via Toselli 1, dove una volta per chi è di Torino c'è ancora l'educatorio della Provvidenza. Siamo disposti anche a avere delle proposte di corsi particolari, quindi c'è semplicemente la necessità di mettersi in contatto con la nostra fondazione. Abbiamo un sito che è un sito internet, Fondazione Collegio Geometri, quindi chi fosse interessato proponga dei corsi e noi ci siamo. Ringrazio per l'ascolto, ringrazio tutti i geometri che professionalmente e annualmente devono, ma per fortuna insomma abbiamo un buon riscontro sull'attività di svolgimento dei corsi e saluto tutti. Grazie. Ben trovati, siamo con Roberto Sardo, Presidente regionale ANMIL del Piemonte, per approfondire alcuni aspetti relativi alla tutela delle vittime del lavoro e dei loro familiari. L'ANMIL svolge un ruolo determinante nel sostenere i lavoratori colpiti da queste tragedie. Presidente, vogliamo ricordare come l'aiuto è fatto fattivamente? Allora, salve a tutti. Da 80 anni il supporto di ANMIL in favore delle vittime del lavoro e delle loro famiglie è a 360 gradi, a partire dal nostro ruolo di rappresentanza della categoria presso le istituzioni, che ci permette di portare all'attenzione degli organi competenti le principali criticità normative e quindi di avanzare proposte di miglioramento sia dal punto di vista della tutela assicurativa che della prevenzione. L'associazione offre inoltre ai propri soci sostegno psicologico, supporto e assistenza generica e specialistica attraverso oltre 500 sedi presenti su tutto il territorio nazionale e grazie anche a vari mezzi di comunicazione. L'ANMIL si avvale inoltre del supporto di esperti e di professionisti che a titolo gratuito offrono consulenza alla categoria delle vittime del lavoro che si rivolgono a noi per informazioni in merito ai diritti che riguardano gli infortuni, i tecnopatici, superstiti di caduti sul lavoro, dei loro familiari. Il nostro impegno si estende anche ai vari enti della rete ANMIL, attività di patronato, di CAF, all'inserimento e reinserimento lavorativo e alla formazione e riqualificazione professionale. Purtroppo il 2024 porta con sé delle vecchie problematiche. Quali sono le iniziative su cui volete puntare quest'anno per la tutela delle vittime del lavoro e dei loro familiari e per la prevenzione del fenomeno infortunistico? Per i soci e i familiari, come detto prima, facciamo assistenza e consulenza per la risoluzione di eventuali problemi legati alle definizioni delle pratiche e ai rapporti eventualmente con l'INAIL. Per quanto riguarda la prevenzione, organizziamo campagne di sensibilizzazione e di testimonianza con i nostri soci testimonial presso scuole e aziende su tutto il territorio nazionale. Quindi colgo l'occasione e mi rivolgo alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle aziende più o meno grandi, affinché ci contattino per avviare questi incontri che sono veramente toccanti e di sicura efficacia. Ogni anno in occasione della giornata internazionale della donna che si celebra l'8 marzo, l'ANMIL organizza specifiche iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle criticità che il mondo femminile incontra ad affrontare proprio ancora oggi. Tanto più se a queste si aggiunge anche un incidente sul lavoro. Ce ne vuole parlare, Presidente? Allora, l'ANMIL da ormai molti anni dedica una particolare attenzione al fenomeno infortunistico al femminile. Questo grazie al lavoro della Commissione per le Pari Opportunità, che è nata per intraprendere un'analisi della condizione della donna, sia per quanto riguarda la prevenzione di infortuni e malattie professionali in ottica di genere, sia per tutti gli aspetti conseguenti dell'evento lesivo, che possono comunque vederla coinvolta in prima persona come vittima dell'incidente, ma anche come componente di un nucleo familiare in cui può verificarsi un tale grave episodio. Un focus particolare che l'ANMIL pone verso le donne è quello riguardante l'inserimento lavorativo, in cui sono proprio le donne con disabilità a subire una doppia discriminazione, risultando ancora di più escluse rispetto agli uomini con disabilità. Inoltre non ci dobbiamo dimenticare le donne per le quali un incidente sul lavoro o una malattia professionale hanno causato la perdita del proprio compagno di vita e quindi hanno dovuto farsi carico interamente della famiglia, con tutto il dolore e le difficoltà che questo comportano, e quindi è anche a loro che l'ANMIL vuole dedicare la giornata dell'8 marzo e continuare ad impegnarsi con azioni concrete. Ringraziamo il Presidente Roberto Sardo e per ogni necessità vi invitiamo a cercare le nostre sedi e i nostri recapiti sul sito www.anmil.it oppure formare il numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18 e il numero è 800 180 943. Grazie dell'attenzione e a presto. Sport e sociale, nuovi orizzonti. Oggi ne parliamo con l'Avvocato Rolla, Vice Presidente Nazionale di Ancos e Presidente Ancos della provincia di Torino. Benvenuto Avvocato. Grazie a voi. Puntata dedicata allo sport, ma prima spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è Ancos. L'Ancos è l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, nasce nel 2002 nell'ambito del sistema confartigianato e viene riconosciuto come ente con finalità assistenziale dal Ministero dell'Interno e successivamente come associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro. Dopo la riforma del terzo settore nel 2017, l'Ancos, per ovvi motivi, si stacca dal mondo confartigianato e diventa un'APS autonoma con iscrizione al RONSA, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ricordo la scorsa volta, quando è venuto in trasmissione, che ha cominciato a parlare dello sport, di uno sport particolare che è il walking football, il calcio camminato. Vediamo di approfondire, far capire ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Molto volentieri. Il walking football, il calcio camminato, è una disciplina che nasce in Inghilterra, dove oggi sono presenti circa 1300 squadre con una federazione autonoma e consente agli over 50, over 60 e in alcuni casi anche over 70 di poter continuare a praticare questo sport quando per ovvi motivi, quindi perché sono stati raggiunti certi limiti di età, non è più possibile o diventa estremamente difficoltoso praticare il calcio nella forma tradizionale anche per quanto riguarda anche sotto la forma del calcetto o calcio a setto o calcio a ovo. Con delle regole un pochino meno ferre rispetto al calcio tradizionale. Certo, le regole sono ferre ma trattandosi appunto di calcio camminato ad esempio il rischio di infortuni è pressoché annullato in quanto non c'è il contrasto con l'avversario se no appunto camminando poi i falli laterali vengono battuti con i piedi e non con le mani è possibile battere il corner ovviamente c'è il rigore quando il difensore entra nella propria area la squadra è composta da 5 più 1 oggi in Italia mi consta che solo la Lazio ha una sua squadra di walking football mentre in Inghilterra tutte le squadre di Premier League hanno al loro interno la squadra di walking football però in Piemonte siamo ben piazzati insomma Piemonte è la regione leader di questa attività in quanto conta ben 16 squadre e da tempo ormai si svolgono dei campionati oggi grazie alla nostra associazione perché la Confederazione Italiana Walking Football era iscritta all'Ancos è stato possibile far questa cosa ne siamo orgogliosi è stato possibile far accogliere nel mondo della FIGC cioè della Federazione Italiana Gioco Calcio anche la Federazione Italiana di Walking Football sotto l'etichetta della Lega Nazionale di Lettanti è partito un torneo sperimentale che proseguirà nell'autunno e al termine di questo torneo ci auguriamo che finalmente dal prossimo anno questa disciplina entri a far parte integrante del mondo della FIGC è nato il sindacato dello sport che si chiama se non sbaglio Artigian Sport il sindacato si chiama FIPS cioè Federazione Artigiana Enti e Professioni Sportive in diminutivo è Artigian Sport è stato costituito dalla Confartigianato e dall'ICS e ci auguriamo di ovviamente siamo ancora nella fase organizzativa e ci auguriamo con l'avvento dell'estate o comunque subito dopo l'estate di poter sottoscrivere il primo contratto collettivo nazionale del lavoro sportivo ovviamente si tratta di un sindacato datoriale però gli approfondimenti ritengo potranno essere oggetti di una prossima puntata ah perfetto allora l'appuntamento ai nostri telespettatori per questo approfondimento è in autunno pressa poco in autunno benissimo grazie Avvocato Rolla grazie a tutti voi e grazie ancora ben ritrovati le malattie dermatologiche croniche soprattutto quelle croniche sono delle malattie che purtroppo sono assolutamente visibilissime perché influiscono innanzitutto su quella che è l'aspetto estetico il modo in cui appariamo pensate a una persona che si è affetta da psoriasi che abbia una localizzazione sulle mani piuttosto che sulla testa piuttosto che nel cuoio capelluto pensate a una persona che abbia una vetiligine che sono quelle strane macchie bianche che compaiono sulla cute e che aumentano chiaramente quando ci abbronziamo e che non sono nient'altro che dei difetti di produzione del pigmento che dà il colore alla pelle ebbene queste malattie che sono che sono così visibili che influiscono così tanto su quella che è la condizione psicologica delle persone perché bene o male queste persone vengono in qualche modo ghettizzate è sempre difficilissimo anche per chi sia abituato come può essere un volontario di un'associazione di malati come ANAP o DV è sempre difficile porgere la mano con estrema naturalezza quando la mano che incontriamo ha delle problematiche ha delle croste ha dei difetti noi lo facciamo perché magari abbiamo paura di far male altri perché temono il contagio temono la trasmissibilità che invece assolutamente non è reale le malattie dermatologiche croniche non sono contagiose eppure queste malattie che così impattano pesantemente sull'estetica sulla vita sociale e lavorativa delle persone non hanno un riconoscimento né da parte del servizio sanitario nazionale né da parte del sistema pensionistico voi pensate che per una psoriasi a placche che è la forma più comune di psoriasi quella più diffusa non esiste un'esenzione del ticket questa esenzione esiste soltanto per quelle forme gravi eritrodermiche pustolose con componente artropatica che per fortuna sono molto meno numerose della psoriasi a placche per quanto riguarda la vitiligine invece assolutamente nessuna delle sue forme ha un riconoscimento dal punto di vista dell'esenzione ticket per quanto riguarda le patologie del discorso pensionistico invece la cosa è ancora più complicata perché nessuna delle malattie dermatologiche croniche è prevista nelle tabelle delle malattie IMS per cui occorrerebbe fare delle comparazioni con delle malattie più o meno simili e se per quanto riguarda la psoriasi nelle forme anche qua artropatiche con gravi mutilazioni o con gravi impedimenti alla mobilità ci sono dei riferimenti che possono portare ad un riconoscimento al massimo del 35% di invalidità per quanto riguarda la vitiligine siamo assolutamente privi di qualsiasi tipo di riferimento e quindi non abbiamo nessuna possibilità di avere un riconoscimento di invalidità o di handicap e questo chiaramente va ad impattare su quello che è la protezione anche del posto di lavoro che è molto spesso messa in pericolo perché voi pensate a una persona che abbia un contatto con il pubblico che faccia il commesso in una panetteria e abbia la vitiligine o abbia la psoriasi molto difficilmente potrà continuare questo suo lavoro di contatto col pubblico perché le persone potranno avere dei grossi problemi a ricevere cibo da una mano che non appare perfettamente sana e che in realtà è una mano sanissima anche qua importante darsi da fare metterci del proprio non chiudersi non isolarsi se volete saperne di più www.anapweb.it e alla prossima volta grazie un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare per questo oggi serve una garanzia da più di dieci anni l'istituto italiano della donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti una associazione che aderisce all'istituto italiano della donazione è sicura e affidabile scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it istituto italiano della donazione dona senza sorprese benvenuti io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere essere qui oggi per presentarvi l'istituto italiano della donazione un'associazione che da oltre 15 anni si occupa di dono e donazione in tutta Italia è un piacere ancora più grande perché oggi sono qui insieme a Pinuccio Giacchero segretario della fondazione Aurora Acqui benvenuto grazie Ornella l'abbiamo sentito anche nel contributo che è appena andato in onda un italiano su due non si fida e non dona io sono sicura che sarà capitato anche a voi almeno una volta nella vita di voler donare per una causa che vi stava a cuore ma di non averlo fatto di esservi fermati nel fare questo gesto di generosità fermati dal dubbio ma io potrò davvero fidarmi di questa realtà i miei soldi andranno davvero alle persone che hanno bisogno o alla causa che mi sta a cuore ecco l'istituto nasce per dare una garanzia al donatore noi svolgiamo dei rigorosi controlli che sono annuali e che vanno ben oltre gli obblighi di legge controlli verso realtà fondazioni associazioni enti di terzo settore che decidono volontariamente di farsi verificare da noi rilasciamo i marchi di qualità donare con fiducia e organizzazione selezionata dall'istituto e inseriamo tutte queste realtà a cui ci si può affidare senza dubbio senza difficoltà le inseriamo nel database io dono sicuro che è disponibile per tutti sul sito www.iodonosicuro.it accanto a questa attività tecnica di verifica dal 2015 abbiamo realizzato un progetto culturale nazionale molto ambizioso che è il giorno del dono il 4 ottobre di ogni anno siete tutti invitati a potervi iscrivere per partecipare attivamente attraverso il nostro sito www.giorno del dono.org come dicevamo è un piacere essere qui con Pinuccio e a lui chiedo di cosa si occupa la fondazione e come mai avete scelto di aderire all'istituto grazie Ornella ti rispondo subito intanto per dire che abbiamo aderito volentieri sul suggerimento di Fondazione Compagnia di San Paolo perché eravamo alla ricerca di una sponda importante per le donazioni periodiche da lì abbiamo iniziato un cammino di formazione continua un metodo di lavoro abbiamo acquisito con impegno il marchio e il dono sicuro e abbiamo cominciato a lavorare in modo un pochino più strutturato poi riguardo invece alla domanda che mi fai su cosa facciamo e di cosa ci occupiamo ti dirò molto semplicemente che la nostra fondazione si occupa di solidarietà è un ente filantropico che raccoglie e distribuisce denaro lo facciamo cercando di lavorare con il territorio e identificando i bisogni principali con la realtà locali del territorio sono stati individuati sostanzialmente i minori in difficoltà e le famiglie in difficoltà le collaborazioni sono con la Caritas e con l'ASCA l'associazione socioassistenziale dei comuni della Qese con la Caritas abbiamo creato il primo fondo che è il fondo per l'emporio solidale con l'ASCA abbiamo creato il fondo per i minori in difficoltà e grazie a un gruppo di famiglie volontari e provobis si sono organizzati degli eventi che hanno permesso di raccogliere denaro che viene destinato a comprare kit scolastici e pagare centri di urna e attività sportive ai minori delle famiglie in difficoltà infine la fondazione ha acquistato un alloggio che è stato destinato a una famiglia la quale ospita l'alloggio e verrà poi accompagnata dopo sei mesi a una situazione poi ordinaria grazie agli assistenti sociali e l'educatore dell'ASCA quindi questo progetto lo abbiamo chiamato la casa di Rene infine l'ultimo progetto che è partito riguarda i giovani di Acqui della Quese vogliamo sottolineare l'importanza del dono che è importante per tutti per chi dona e per chi riceve ma soprattutto per chi dona perché siamo convinti che donare fa bene fa bene a noi stessi fa bene a chi lo fa fa bene soprattutto a tutta la comunità che ci circonda e farlo in modo trasparente e sul territorio lo riteniamo veramente una cosa importante grazie mille Pinuccio non mi resta che dare a tutti appuntamento sul nostro sito www.iodonosicuro.it grazie i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie a tutti